Don Milani, lettera ai cappellani militari, non ho affatto a tempo a organizzare questo incontro tra voi e la mia scuola. Io l'avrei voluto privato, ma ora che avete rotto il silenzio voi e su un giornale, non posso fare a meno di farvi quelle stesse domande pubblicamente. Primo, perché avete insultato dei cittadini che noi e molti altri ammiriamo e nessuno che io sappia vi aveva chiamati in causa, a meno di pensare che il solo esempio di quella eroica coerenza cristiana bruci dentro di voi una qualche vostra incertezza interiore. Secondo, perché avete usato, con estrema leggerezza e senza chiarirne la portata, vocaboli che sono più grandi di voi? Paroloni sentimentali o volgari insulti agli obiettori o a me non sono argomenti. Se avete argomenti sarò ben lieto di darvene atto e di ricredermi se nella fretta di scrivere mi fossero sfuggite cose non giuste. Non discuterò qui l'idea di patria in sé. Non mi piacciono queste divisioni. Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora vi dirò che nel vostro senso io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri. E se voi avete il diritto, senza essere richiamati dalla curia, di insegnare che italiani e stranieri possono lecitamente, anzi, eroicamente squartarsi a vicenda, allora io reclamo il diritto di dire che anche i poveri possono e debbono combattere i ricchi e almeno nella scelta dei mezzi sono migliore di voi. Le armi che voi approvate sono orribili macchine per uccidere, mutilare, distruggere, fare orfani e vedove. Le uniche armi che approvo io sono nobili e incruente, lo sciopero e il voto. Certo, ammetterete che la parola patria è stata usata male molte volte. Spesso essa non è che una scusa per credersi dispensati dal pensare, dallo studiare la storia, dallo scegliere quando occorra tra la patria i valori ben più alti di lei. Non voglio in questa lettera riferirmi al Vangelo. È troppo facile dimostrare che Gesù era contrario alla violenza e che per sé non accettò nemmeno la legittima difesa. Mi riferirò piuttosto alla Costituzione. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Articolo 52. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Misuriamo con questo metro le guerre cui è stato chiamato il popolo italiano in un secolo di storia. Se vedremo che la storia del nostro esercito è tutta intessuta di offese alle patrie degli altri, dovrete chiarirci se in quei casi i soldati dovevano obbedire o obiettare quel che obbiettava la loro coscienza. E poi dovete spiegarci chi difese di più la patria e l'onore della patria. Quelli che obbiettarono o quelli che obbedendo resero odiosa la nostra patria a tutto il mondo civile. Basta con i discorsi altisonanti e generici. Scendete al pratico. Diteci esattamente che cosa avete insegnato ai soldati. L'obbedienza ad ogni costo? E se l'ordine era il bombardamento dei civili? Un'azione di rappresaglia su un villaggio inerme? L'esecuzione sommaria dei partigiani? L'uso delle armi atomiche, batteriologiche, chimiche? La tortura? L'esecuzione degli ostaggi? I processi sommari per semplici sospetti? Le decimazioni? Scegliere a sorte qualche soldato della patria e fucilarlo per incutre terrore negli altri soldati della patria? Una guerra di evidente aggressione? L'ordine di un ufficiale ribelle al popolo sovrano? La repressione di manifestazioni popolari? Eppure queste cose e molte altre sono il pane quotidiano di ogni guerra. Quando ve ne sono capitate davanti agli occhi? O avete mentito? O avete taciuto? O volete farci credere che avete volta a volta detto la verità in faccia ai vostri superiori, sfidando la prigione e la morte, se siete ancora vivi e graduati, è segno che non avete mai obiettato a nulla. Non potete non pronunciarvi sulla storia di ieri, se volete essere come dovete essere le guide morali dei nostri soldati. Oltre a tutto la patria, cioè noi, vi paghiamo o vi abbiamo pagato anche per questo. E se manteniamo a caro prezzo mille miliardi l'anno l'esercito, è solo perché difenda con la patria i alti valori che questo concetto contiene. La sovranità popolare, la libertà, la giustizia e allora esperienza della storia alla mano. Urgeva più che educaste i nostri soldati all'obiezione che all'obbedienza. L'obbedienza in questi cento anni di storia l'han conosciuta troppo poco. L'obbedienza, per disgrazia loro e del mondo, l'han conosciuta anche troppo. Scorriamo insieme la storia. Volta a volta ci direte da che parte era la patria. Da che parte bisognava sparare, quando occorreva obbedire e quando occorreva obiettare. 1860. Un esercito di napoletani imbottiti dell'idea di patria tentò di buttare a mare un pugno di briganti che assaliva la sua patria. Tra quei briganti c'erano diversi ufficiali napoletani disertori della loro patria. Per l'appunto furono i briganti a vincere. Ora ognuno di loro ha in qualche piazza d'Italia un monumento, come eroe della patria. A cento anni di distanza la storia si ripete. L'Europa è alle porte. La Costituzione è pronta a riceverla. L'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie. I nostri figli rideranno del vostro concetto di patria, così come tutti ridiamo della patria borbonica. I nostri nipoti rideranno dell'Europa. Le divise dei soldati e dei capellani militari le vedranno solo nei musei. La guerra seguente, 1866, fu un'altra aggressione. Anzi, c'era stato un accordo tra il popolo più attaccabrighe e guerrafondaio del mondo per aggredire l'Austria insieme. Furono aggressioni, certo, le guerre 1867-1870 contro i romani, i quali non amavano molto la loro secolare patria, tant'è vero che non la difesero, ma non amavano molto neanche la loro nuova patria, che li stava aggredendo, tant'è vero che non insorsero per facilitarle la vittoria. 1898. Il re Buono onorò della gran croce militare il generale Bava Beccaris, per i suoi meriti in una guerra che è bene ricordare. L'avversario era una folla di mendicanti che aspettavano la minestra davanti a un convento a Milano. Il generale li prese a colpi di cannone e di mortaio solo perché i ricchi, allora come oggi, esigevano il privilegio di non pagare le tasse. Volevano sostituire la tassa sulla polenta con qualcosa di peggio per i poveri e di meglio per loro. Ebbero quel che volevano. I morti furono 80, i feriti innumerevoli. Fra i soldati non ci fu né un ferito né un obiettore. Finito il servizio militare, tornarono a casa a mangiare polenta. Poca, perché era rincarata. Eppure gli ufficiali si guidarono a farli gridare Savoia, anche quando li portarono ad aggredire due volte. 1896 e 1935 un popolo pacifico, lontano, che certo non minacciava i confini della nostra patria. Era l'unico popolo nero che non fosse ancora appestato dalla peste del colonialismo europeo. Quando si battono bianchi e neri, siete quei bianchi? Non vi basta di imporci la patria Italia? Volete imporci anche la patria razza bianca? Siete di quei preti che leggono la nazione? Stateci attenti, perché quel giornale considera la vita di un bianco più che quella di cento neri. Avete visto come ha messo in risalto l'uccisione di 60 bianchi nel Congo, dimenticando di descrivere la contemporanea immane strage di neri e di cercarne i mandanti qui, in Europa. Idem per la guerra di Libia. Poi siamo al 14. L'Italia aggredì l'Austria, con cui questa volta era alleata. Battisti era un patriota o un disertore? È un piccolo particolare che va chiarito se volete parlare di patria. Avete detto ai vostri ragazzi che quella guerra si poteva evitare? Che Giolitti aveva la certezza di poter ottenere gratis quello che poi fu ottenuto con 600.000 morti? Che la stragrande maggioranza della Camera era con lui? 450 su 508? Era dunque la patria che chiamava alle armi? E se anche chiamava, non chiamava forse a una inutile strage? L'espressione non è di un vile obiettore di coscienza, ma ad un papa canonizzato. Era nel 22 che bisognava difendere la patria aggredita. Ma l'esercito non la difese. Stette ad aspettare gli ordini che non vennero. Se i suoi preti l'avessero educato a guidarsi con la coscienza, invece che con l'obbedienza cieca, pronta, assoluta, quanti mali sarebbero stati evitati alla patria e al mondo? 50 milioni di morti! Così la patria andò in mano ad un pugno di criminali che violò ogni legge umana e divina e riempiendosi la bocca della parola patria, condusse la patria allo sfacelo. In quei tragici anni, quei sacerdoti che non avevano in mente e sulla bocca la parola sacra patria, quelli che di quella parola non avevano mai voluto approfondire il significato, quelli che parlavano come parlate voi, fecero un male immenso alla propria patria. E si è detto incidentalmente, disonorarono anche la chiesa. Nel 1936, 50 mila soldati italiani si trovarono imbarcati verso una nuova infame aggressione. Avevano avuto la cartolina di precetto per andar volontari ad aggredire l'infelice popolo spagnolo. Erano corsi in aiuto di un generale traditore della sua patria, ribelle al suo legittimo governo e al popolo suo sovrano. Con l'aiuto italiano e al prezzo di un milione e mezzo di morti, riuscì ad ottenere quello che volevano i ricchi. Blocco dei salari e non dei prezzi. Abolizione dello sciopero, del sindacato, dei partiti, da ogni libertà civile e religiosa. Ancora oggi, in sfida al resto del mondo, quel generale ribelle imprigiona, tortura, uccide. Anzi, Garrota, chiunque sia re o d'aver offeso allora la patria, può di tentare di salvarla oggi. Senza l'obbedienza dei volontari italiani, tutto questo non sarebbe successo. Se in questi tristi giorni non ci fossero stati degli italiani neanche dall'altra parte, non potremmo alzar gli occhi davanti a uno spagnolo. Per l'appunto, questi ultimi erano italiani ribelli ed esuli dalla loro patria, gente che aveva obiettato. Avete detto ai vostri soldati cosa devono fare se gli capita un generale tipo Franco? Oh, vi avete detto che agli ufficiali disobbedianti al popolo loro sovrano non si deve obbedire? Poi, dal 39 in là, fu una frana. I soldati italiani aggredirono una dopo l'altra altre sei patrie che non avevano certo attentato alla loro. Albania, Francia, Grecia, Egitto, Jugoslavia, Russia. Era una guerra che aveva per l'Italia due fronti. L'uno contro il sistema democratico, l'altro contro il sistema socialista. Erano e sono per ora i due sistemi politici più nobili che l'umanità si sia data. L'uno rappresenta il più alto tentativo dell'umanità di dare, anche su questa terra, libertà e dignità umana ai poveri. L'altro, il più alto tentativo dell'umanità di dare, anche su questa terra, giustizia ed eguaglianza ai poveri. Non vi affannate a rispondere, accusando l'uno o l'altro sistema dei loro vistosi difetti ed errori. Sappiamo che sono cose umane. Dite piuttosto cosa c'era di qua, dal fronte. Senza dubbio, il peggior sistema politico che oppressori senza scrupoli abbiano mai potuto escogitare. Negazioni di ogni valore morale, di ogni libertà, se non per ricchi e per i malvagi. Negazione di ogni giustizia ed ogni religione. Propaganda dell'odio e sterminio di innocenti. Tra gli altri, lo sterminio degli ebrei. La patria del Signore, dispersa nel mondo e sofferente. Che c'entrava le patrie con tutto questo? E che significato possono più avere le patrie in guerra, da che l'ultima guerra è stata un confronto di ideologie e non di patrie? Ma in questi cento anni di storia italiana c'è stata anche una guerra giusta, se guerra giusta esiste. L'unica che non fosse offesa delle altrui patrie, ma difesa della nostra. La guerra partigiana. Da un lato c'erano dei civili, dall'altra dei militari. Da un lato soldati che avevano obbedito, dall'altra soldati che avevano obiettato. Quali dei due contendenti erano, secondo voi, i ribelli? E quali i regolari? È una nozione che urge chiarire quando si parla di patria. Nel Congo, per esempio, quali sono i ribelli? Poi, per grazia di Dio, la nostra patria perse l'ingiusta guerra che aveva scatenato. Le patrie aggredite dalla nostra patria riuscirono a ricacciare i nostri soldati. Certo, dobbiamo rispettarli. Erano infelici contadini o operai trasformati in aggressori dall'obbedienza militare. Quell'obbedienza militare che voi, capellani, esaltate senza nemmeno un distinguo che vi riallacci alla parola di San Pietro. Si deve obbedire agli uomini o a Dio. E intanto ingiuriate alcuni pochi colaggiosi che sono finiti in carcere per fare come ha fatto San Pietro. In molti paesi civili, in questo più civili del nostro, la legge li onora, permettendo loro di servire la patria in altra maniera. Chiedono di sacrificarsi per la patria più degli altri, non meno. Non è colpa loro se in Italia non hanno scelta che di servirla ozziando in prigione. Dal resto anche in Italia c'è una legge che riconosce un'obiezione di coscienza. È proprio quel concordato che voi volevate celebrare. Il suo terzo articolo consacra la fondamentale obiezione di coscienza dei vescovi e dei preti. In quanto agli altri obiettori la Chiesa non si è ancora pronunziata né contro di loro né contro di voi. La sentenza umana che li ha condannati dice solo che hanno disubbidito alla legge degli uomini, non che sono vili. Chi vi autorizza a rincarare la dose e poi a chiamarli vili? Non vi viene in mente che non si è mai sentito dire che la viltà sia patrimonio di pochi? L'eroismo patrimonio dei più? Aspettate, insultarli. Domani forse scoprirete che sono dei profeti. Certo, il luogo dei profeti è la prigione, ma non è bello star dalla parte di chi ce li tiene. Se ci dite che avete scelto la missione di cappellani per assistere feriti e moribondi, possiamo rispettare la vostra idea. Perfino Gandhi, da giovane l'ha fatto. Più maturo condannò duramente questo suo errore giovanile. Avete letto la sua vita? Lorenzo Milani, sacerdote.